Un polo fieristico che ospita tra le manifestazioni orafe più importanti al mondo, Vicenza Oro a Vicenza appunto, è però anche un momento di presenza straniera particolarmente concentrata sul territorio cittadino, generatrice tra l'altro di enormi flussi di denaro. Un via vai che vale 70 milioni di euro e sul quale la Guardia di Finanza Berica ha puntato gli occhi scoprendo una costante. Proprio nei giorni della fiera centinaia di bonifici internazionali per un totale di quasi 30 milioni di euro in tre anni venivano disposti da parte di cittadini cinesi verso conti correnti alla madrepatria. Ulteriori approfondimenti investigativi hanno permesso di appurare che 28 operatori orafi con sede a Hong Kong avevano movimentato denaro contante per cifre davvero elevate, ben oltre la soglia dei 12.500 euro prevista per legge. Questo ha fatto scattare i controlli delle fiamme gialle che per la normativa antiriciclaggio hanno dovuto verificare origine e destinazione di tutti questi soldi. Quindi non ricevevano acconti, non ricevamo se fossero acconti su future commercializzazioni di beni per importi molto più rilevanti e quindi questo fatto di per sé è in contrasto con quella che è la nostra stringente normativa valutaria e anche antiriciclaggio che invece impone che tutte le monetazioni sopra i 12.500 euro venivano attraverso canali abilitati, quindi con Carto e con Astegni. 6 milioni di euro il totale delle sanzioni amministrative combinate a circa 20 imprenditori cinesi 5 dei quali, una volta capito lo sbaglio, hanno compilato tranquillamente il modulo per il versamento e prima di tornare in patria si sono presentati ordinatamente alle poste vicentine per pagare in contanti la multa.